stiamo volendo il camper perché tra qualche giorno abbiamo una trasferta voi ovviamente la vedete infatti fa un po schifo da dicembre che non lo laviamo poverello voi adesso lo vedete un po un po così malmesso ma in realtà è molto peggio dai povero casimiro fanno trattare male quindi non dice mai di no però intanto il vetro è pulito è venuto bene riflette guarda che bello praticamente voi vedere questo video in differita in più tardi e anche ovviamente dei passaggi sulla sulla fiera sull'evento per cui ci vedremo con gli aggiornamenti buon lavoro no no Cosa si fa per andare all'infiere? Sperando che domani non faccia questo tempo. 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 Sperando che domani non faccia questo tempo.